Ciao a tutti, spesso durante il giovedì della parola mi è capitato di presentare un libro o un articolo di giornale che mi ha particolarmente incuriosito e che mi è piaciuto condividere con te. Questa settimana voglio semplicemente presentarti un regalo che ci è stato fatto da una persona speciale, il nostro Vescovo Claudio, che in questi giorni ha pubblicato una breve ma intensa lettera dedicata proprio a te, a te adolescente, a te giovane. La puoi trovare anche nel sito del Barbarigo dove l'abbiamo postata. Come ho detto è un testo molto breve, già il titolo incuriosisce molto, come una miniera inesauribile. Lascia a te scoprire che cosa ci sia dentro a questa miniera e perché venga definita inesauribile. A me viene da dire che tu sei una miniera inesauribile perché specialmente in questo momento della tua vita, in questo particolare periodo che stai vivendo, l'adolescenza appunto, dentro di te ci sono un sacco di tesori che vai scoprendo, tanti aspetti belli, positivi, ma anche alcune contraddizioni e alcune difficoltà. Scorrendo il testo ti accorgerai che il Vescovo ti conosce molto bene. D'altro lato è stato adolescente anche lui qualche tempo fa, come lo siamo stati tutti. Da parte sua c'è l'invito a scoprire tutto questo, a viverlo in pienezza e a non aver paura a confrontarti anche con chi magari è un po' più adulto di te. La miniera inesauribile però è anche qualcos'altro. Ha un nome, si chiama Gesù, si chiama Vangelo. Anche questa miniera tu puoi scoprire e se avrai il coraggio di entrarci e di guardarci dentro potrai trovare il tesoro. È l'augurio allora che ti faccio. Spero che avrai il coraggio di prendere in mano questo brevissimo testo, di farlo tuo, di confrontarti con quanto c'è scritto e magari anche di parlarne con noi docenti, con noi professori e chissà, forse anche un giorno con il vescovo quando ritorneremo tutti in Barbarigo. Buona settimana e buona lettura. Ricordati, sei una miniera inesauribile.